oh cuore buongiorno buongiorno eh sì ho fatto il caffè ho mangiato la brioche eh va bene dai eh sì sì cuore mo stavo pensando che comunque queste son cose che faremo non appena tu esci da quel cazzo di ospedale che le mattine ti devo aspettare giù in macchina ma no dai eh sì vabbè ok vabbè inizialmente eh vabbè tanto ti prendo in braccio eh almeno all'inizio fino a quando poi non riusciamo a rimetterci in piedi eh ti prendi in braccio e ce ne andiamo al bar a fare colazione ti porto in braccio dentro il bar però non prendere tanto peso se no non so come devo fare che devo andare in palestra a farmi muscoli poi per prenderti in braccio eh beh sì ce ne andiamo al bar tutti e due prima di andare al lavoro e ci andiamo a prendere un bel cornetto un bel cappuccino un caffè e poi ce ne andiamo al lavoro eh va bene va bene va bene arrivasse presto questo momento va eh oggi credo faranno nuove nuove test eh per vedere il fatto delle piastrine vediamo che dicono eh e vabbè senti oggi stamattina c'ho qualche appuntamento speriamo che non mi bidonano insomma eh no vabbè sono persone seri dovremmo fare qualche cosina oggi dai senti e niente no vabbè rifletti cuore su queste cose insomma sì è bello cioè figurati poi sono come dire sono momenti di felicità che comunque vanno 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 vissuti appieno eh e solo che poi ovviamente bisogna un po' essere più razionali ragionare un po' più colamente e no anche i desideri possono essere esauditi però magari più con razionalità riflettendo e sapendo di avere accanto veramente la compagna che si desidera per sempre eh va bene va bene cuore va bene senti e che dire cuore e niente ci sentiamo dopo fammi andare al lavoro stamattina tanto sono già arrivato e vediamo un po' queste a che ora vengono sì no devo c'è un appuntamento con uno che dobbiamo fare un ordine in Ucraina no per un pezzo di ricambio che solo ho lista eh mi sono già sentito ieri ho già parlato con con l'Ucraino ma stamattina mi doveva dare delle specifiche di come procedere sì no no lavorano lavorano evidentemente sarà qualche zona dove magari non c'è movimento di guerriglia va bene beh voglio ci sentiamo dopo ok un bacio un quarto e un abbraccio capello corto sbarbato e vabbè stasera c'è il compleanno di Claudio che dobbiamo essere belli in ordine ciao cuore mio ci sentiamo dopo ciao cuore ciao